Giornata di visite in comune per il sindaco De Magistris che questa mattina ha accolto in sala giunta due gruppi di studenti. I primi ad arrivare sono gli alunni dell'88esimo istituto comprensivo Edoardo De Filippo Apponticelli, che seduti al tavolo come piccoli assessori hanno sottoposto al primo cittadino alcune domande sui temi più sentiti per la vivibilità del proprio quartiere. Al centro la questione dei rifiuti, della sicurezza e del miglioramento delle strutture scolastiche, presenti insieme ai docenti e al preside dell'istituto una rappresentanza di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che hanno ricevuto al termine della visita una medaglia ricordo del comune. Il sindaco ha poi incontrato una classe di studenti provenienti dalla Sicilia che ha scelto la città di Napoli come meta del proprio viaggio scolastico.